Domenica, presso il Palacannizzalo di Caltanissetta, si è tenuta la manifestazione Una Stella per Aism, una maratona di fitness in memoria di Ilenia Scarantino, scomparsa a 29 anni nel 2020. Ilenia era una sportiva che si era distinta a livello nazionale, istruttrice di ginnastica funzionale dello Spartan System che ha diffuso in Sicilia. L'evento, partito dalle 10 del mattino e concluso nel tardo pomeriggio, ha visto alternarsi varie lezioni di fitness come il Group Cycling, l'allenamento funzionale, lo Spartan System, il Mastertonic, il Bodyweight, il Pinoxing e altre varie. Una giornata ricca soprattutto di emozioni ma ovviamente la prima parte è concentrata tutta sul fitness, diverse lezioni con dei presenter nazionali che sono venuti tutti qui per omaggiare Ilenia che era una collega voluta bene da tutto il mondo fitness.